Benvenuti, bentornati, ciao a tutti Ciao, è la prima volta che noi ritorniamo su questi schermi da luglio, giugno E guardate chi l'aveva guardato Io sono il motivo per il quale hanno detto che palle adesso devo tornare Esatto, ci ha obbligati a tornare Capito Com'è Henry qua? No, ti ha schiacciato una roba E alzare volume Morta Già sta diventando troppo caotica la situazione Ciao Marti Ciao raga Più che un piacere che tu sia qua oggi con noi per il ritorno E vabbè, come stai? Come sono andate le tue vacanze? Tutto bene E rientro? Ma allora ho fatto delle vacanze principalmente a luglio Io poi a agosto sono stata a casa un po' chillato Mi sono riabituata alle vibes di settembre diciamo Ottimo Tranquilla E abbiamo visto che, cioè Abbiamo, io so, ho visto che hai fatto dei viaggi della madonna Allora sì, sono andata a Bali raga È stato bellissimo A Bali? Ah è vero? Sì Certo Come sono andata? Sei andata a Bali? Non lo sapevo Surprise Non ho visto neanche una foto No, sono stata a Bali È stato super bello raga Viaggio da fare una volta nella vita Però, raga, questo è tipo breaking news Nel senso non l'ho detto da nessuna parte Ho preso il covid a Bali Ragazzi, esclusiva no clickbait Allora, quando ero là non sapevo di averlo Ma stavo male Cioè nel senso, tipo Ve lo giuro che io non riuscivo a stare in piedi Ho detto, boh, avrei preso tipo Il virus Una roba alimentare bru Sì, cioè pensavo una roba del genere E poi in realtà torno a casa Faccio il test E la riga della positività era fosforescente Raga, non avessi No Vabbè, è passato però Vabbè, però a Milano Cioè, a Milano Qua è una strada di Milano Sì Perché il test l'ho fatto a casa Sì Beh, perché giustamente lì Poi non si sa mai che ti rinchiudono In quelle piccole Raga, vi giuro Secondo me, tipo in Asia No, no Io avevo paura Avevo paurissima Tra l'altro Tipo, il penultimo giorno di partire Dovevamo fare surf Non avevo mai fatto surf E non pensavo Cioè, ok, dicevo Vabbè, sì, difficile Perché alla fine devi nuotare Però a me piace nuotare Sono capace O io non riuscivo a respirare Eh, hai capito Raga, ho surfato come una bestia Col covid Io non sapevo di avere il covid Allora, nel mare surfavo Ma piena di adrenalina Sono arrivata a Riva Mi stavo addormentando Cioè, letteralmente Ho messo giù la tavola Mi sono sentita sulla tavola E ero lì così Marti, Marti, tutto è No, giuro Ti sei stradivertita No, è stato bello Però, a parte quest'ultimo inconveniente Però andate Bellissimo Ma, e se sei andata lì Viaggio scelto da te O avevi qualche Aggaggio No, era lì con una Allora Esatto Allora, ero lì con Sivola C'è qualcuno Volevo sapere Non lo sapevo C'è qualcuno Che sta attento alle storie E qualcun altro No, ma va bene Ma va bene così Sai che sono un po' distratta Lo sai Sono una ragazza distratta Ero lì con Sivola Perché Human Safari L'ho conosciuto facendo un lavoro E appunto sapeva Che aveva questa agenzia Perché alla fine È un'agenzia Che organizza viaggi di gruppo E mi fa Ma vieni a fare un viaggio di gruppo E ho detto Ovvio Why no? Esatto E tipo mi fa Bali è molto figo E ho detto ok E sono andata a Bali Bravissima E con tua mamma anche? No, in realtà Ero con il mio ragazzo Ok E niente E' lì con lui Tranquillo Allora posso lanciare Allora ora dirò questa cosa Che significa che Non possiamo più invitare nessuno Ma lei ha dei problemi seri Con qualsiasi tipo di Non so Influencer Così L'unica Io non sto scherzando Cioè Non è che sei tu qua L'unica che segue Non sto scherzando Sei tu Grazie Giuro Cioè che lei tutta di Che cazzo me ne frega Così Non so niente Da solo Un anno e mezzo Quarta martin Amo vale doppio questo Cioè stai scherzando Duro Giuro La cifra di tempo La stitoc L'unica L'unica Che poi Non è che posso seguire 15 mila influencer Quindi Seguo uno Ti sei confusa Ti dico Perché con mia mamma Ho fatto un altro viaggio Che era Tipo a giugno Londra Anche Anche Carvalina Brava Madonna Tutte le sale Cioè incredibile Mamma Roby Sì Lei me la porto dietro Mamma Roby Cioè possiamo dirlo Senza se Che bella donna Mamma mia Io Cioè ogni volta Che vedo mamma Roby Dico Complimenti Si vede Marti Perché è così No 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 Si tiene mia mamma È molto precisina Le piace fare sport Mi ha passato un po' Questa cosa Il senso che Vivo lo sport Non come un che palle Mi deve allenare Cioè a volte sì Cioè a volte proprio Non c'ho sbatti Però Poi sono stracontenta Eh si vede che fa un sacco di sport Cioè Che brava Mi piace proprio Me l'ha passato lei Secondo me Cioè lei adesso ha Age reveal Tipo 52 anni No adesso mi ammazza Altro titolo clickbait Ma non lo dicevo A 50 anni No ragazzi 50 anni tipo Però cioè È più strutturata di me Quindi Sì sì ma si vede che c'ha Il fisico Mentre scusa Tu non sei di qua Ma sei di fuori Esatto Ok E come vivi questa qua Allora io Cioè ora dirò questa cosa qua Orrenda Ma Ho sempre visto tipo la parte Non so magari Provincia Varianza Non so Sì 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 Come proprio sconosciuto Cioè che non ho idea di Come si vive Cosa si fa Cioè tu esci la sera Cioè ci sono cose da fare Perché ovviamente figurati Spieghiamo raga La vita di provincia E non sono neanche in provincia di Milano Sono in provincia di Varese Ok Cioè proprio Quindi proprio Come fra l'altro Massimo Pericolo Non so se lo sai Eh certo Mi basta lasciare Varese Troppo Volevo dire Esatto Troppo noi Troppo noi Massimo Gli hai detto Gli hai detto Troppo noi Scritta per me La vita di provincia è Io non so come sia la vita invece di città Però la vita di provincia è così Io non ho tantissimi amici Ho tipo Ok Cinque amici ok Che comunque meglio pochi ma buoni Serata tipo Dove noi ci becchiamo Raga stasera ci siete Sì ok Nove e mezza In questo bar E stiamo al bar E scegliamo lì così Raga Cioè è un rompimento di pa Cioè non è niente di speciale Però Boh chiacchieriamo Ti sei anche abituata in realtà Però io che Ripeto ti seguo Ora mi spiace Marti sembra una stalker Però proprio io sono impassionata E te So che tu Comunque cioè Milano non è che la vedi Come tuo sogno Che ti vuoi Rasterire Cioè nonostante tu ora qua Hai Tuo lavoro agenziale Immagino tutto qua Sì 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 Ma comunque non hai Non hai Questo desiderio sfrenato Per me Milano è molto bella A me piace tanto come città E poi Mi ha regalato tantissimo Nel senso che mi ha dato Un botto di opportunità Però A parte che è cara Cioè è carissima Io sono a mezz'ora da qua Dico che cavolo me lo fa fare Certo E poi È proprio Cioè è caotica A me a volte capita che Sono tranquilla lì Arriva Milano E C'è l'ansia Posso venirmi su qualcosa Quindi secondo me Sono le vibes della città Perché è viva C'è Chiara Ferrani E soprattutto C'è Chiara Ferrani Chiara Ferriss E l'altro Scusa Scusa Ferry Cioè che ora Tu ne fai così Esatto Tu sei così con lei Amo così Cioè La conosco Abbiamo lavorato insieme Raga la amo Cioè esattamente come la vedete Io mi sento Io Credo di aver creato un rapporto con lei Cioè che mi sento proprio sua amica Idem No Ma con la sua amica Mia madre Cioè che io la vedo Spu mia madre No io Fedez Lo ha Cioè lo conosco anche bene Mi viene Io posso riconoscere Anche abbastanza bene Sì ormai sai tutto Ma io vi dico La prima volta che l'ho vista Boh Ansia un po' Cavolo C'è un personaggio importante Lei Serio C'è una cosa scherzi Veramente Cioè io Io ho fan pura lei Anch'io Ma io da Da quando ha fatto il libro Cioè io ho il suo Il primo libro Cioè io da proprio allora Quindi Quando A parte La The Blonde Salad Brava Cioè sì Si chiamava The Blonde Salad Sì può essere Vabbè Quello dove lei ha un abito blu Che cammina Sì Ecco quello E quindi ho fan Dal giorno zero E Quando mi ha seguita su TikTok Stavo morendo E ci ha detto Raga non è possibile Cioè è stata tipo La terza o quarta persona Che ha seguito E tipo ho detto No vabbè ha sbagliato Ma ero troppo sicura E tipo Non dico ogni giorno Però almeno una volta a settimana Controllavo che mi seguisse Ancora per sicurezza Perché Non dico ogni giorno E' comunque la certezza Nel follow di Chiara Ferragni No ragazzi Cioè La certezza forse La certezza No 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 Cioè Io se mi segui lei Adesso posso tipo fallire Però Cioè Capito E quindi questo già mi bastava E poi è arrivata questa collaborazione E anche lì Cioè raga è stato tipo Il giorno più bello della mia vita Fino ad ora Però come l'ho conosciuta Ciao Cioè E' proprio un'esperienza Non so come dire Immagino Wow Assurdo Beh io volevo farti Allora innanzitutto Perché siccome ti seguo Da quando ho 11 anni Ok No voglio dire No voglio sapere un po' Cioè come è nato Cioè come Da dove è nato tutto questo Che tu hai creato intorno a te Allora bella domanda Praticamente Io utilizzo TikTok Da quando ancora si chiamava Musical.ly E su Musical.ly ci facevano i balletti Ma non so ballare Quindi già all'epoca Tipo L'ho scaricata nel 2016 Credo la piattaforma E Facevo lip sync Già allora Perché non sapevo ballare Quindi ho detto Un'altra cosa che mi diverte È fare lip sync Li facevo però poi Cioè li facevo d'estate Poi andavo al liceo Non c'avevo tempo Boh Mi perdevo l'interesse E ricominciavo ogni estate Ok Fino al 2019 Che mi mollo col mio ex storico E vabbè Ero un po' sotto un treno Ero contenta di averlo lasciato Però comunque ero un po' sotto un treno Sotto un treno Giusto E E tipo L'unica cosa che mi tirava su Era fare i video Cioè perché Facendo Lip sync Era come se Fossi un'altra persona Almeno per un po' E tipo mi mettevo a fare video Ma anche per diverse ore al giorno Perché mi staccavo dalla realtà Quindi Certo Cioè mi passavano gli sbatti E da lì Tipo i video hanno iniziato a diventare virali Ma io Cioè Sembra la frase solita Però non l'ho cercato Cioè era un bisogno mio Di staccarmi un attimo E è andata così Adesso faccio un'altra tipologia di video Però No ma io ho Il ricordo mio tuo primo È quarantena Cioè che proprio c'eri C'eri solo te Quarantena C'eri solo te Cioè sei cresciuta su me in Due mesi Sì Allora Sì 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 Io Quando ho messo il video tipo di Giorgia Che adesso è attuale Purtroppo Nel senso che Giorgia è Giorgia Sì Io sono Giorgia Inizato lì E tipo Quando ho messo quel video Avevo 300.000 follower E che in quel video Sono arrivata Boa tipo 5C Cioè una roba del genere Poi Così era tipo febbraio È arrivato gennaio febbraio La gente era tutta in casa A guardare i miei tiktok Quindi Cioè è stata una tragedia Per tutti Praticamente Io mi sento un po' Una Posso dire parolacce? Certo Mi sento un po' Una merda Perché cioè io ci ho Giovato da sta situazione Vabbè ma Cioè penso Tutto l'ambiente social Non saremmo qua Se non ci fosse stato il covid Quindi c'è Ci sono anche delle belle storie Nella tragedia enorme Che è stata E che è ancora Ovviamente Cioè non sto sminuendo la cosa Però c'è Ogni volta che mettevo un video Mi scrivono Per te Per te Per te Per te Ma mi dicevano Sono solo i tuoi Quindi Mi spiace Se vi ho disturbato No amo Ma veramente Entratelo in un sacco Magari c'è chi In live Che dici Minchia questa Me la ricordo La odio Mi hai rovinato La quarantena Per quanto già fosse una merda Vabbè scusate Se questo fosse il caso No Non credo No Sicuramente no No Poi appunto Prima di fare Che tu dicevi Che adesso I video sono un po' cambiati Sì Ma sono video che Tu fai Perché sono cose Che interessano a te In particolare O perché Magari con l'agenzia Devi farlo Allora io Sono Incuriositissima Da come funziona Tutto il rapporto Tra Non lo so Te e Ciò che tu Ovviamente Vuoi Esatto Ciò che piace a te E ciò che devi fare Ciò che poi Siccome Chi non lo sa Questo è 100% working Yes Paghiamo le tasse Ci sono cose Tante Quindi 100% un lavoro Raga Quindi stronzi Che dice No no Col cazzo Esatto E poi soprattutto Scusa Sono 800 cose E poi tu Parli come vuoi Sì Vado per ordine Se questa cosa qua Ti limita Cioè Ciò che penso io È Tu hai ogni giorno 500 cose Cioè Di video Da creare Fare Eccetera E Siccome Per quanto sia Brutto Per questa cosa qua Conta pure molto Ogni quanto pubblichi Cioè O sei Per esempio Emma Chamberlain Che pure se In 5 mesi Non fa nulla Pubblica in 3 giorni A 20 milioni Sì Come la gestisci Anche qual è la chiave Per mantenere Comunque Il successo 8 centromanti Mi hanno fatto Ok Allora Andando per ordine La domanda Che mi ha fatto Nina All'inizio era I video che faccio Se li faccio Per interesse mio Quanto c'è di tuo In quello che fai In senso Il tuo interesse personale In quello che fai Sì Nei miei video Tutti i video che vedete Sia su Instagram Che su TikTok Sono Pensati da me Dall'inizio alla fine Cioè La mia agenzia Mi segue Lato Più che altro Commerciale Quando c'è un cliente Di mezzo Adesso Dopo vi spiego Però comunque Lato creativo Tutti i video Che faccio Nei Nascono sempre Da una mia curiosità Soprattutto il format Che ho iniziato Praticamente adesso Perché io sono Stra curiosa Cioè Magari sto per andare a letto E sono capace Di mettere giù il telefono Metti in modalità aerea E poi mi chiedo Boh che ne so Perché i biscotti Quando li tiri fuori Dal sacchetto Si ammollano Cioè E io lo vado a cercare Perché se no Oltarlo E la mattina dopo Dico Madonna Cosa mi ero chiesta No Quindi la risposta Ce la devo avere subito Vabbè Questa qui è una cavolata Però di base Sono interessata A tante cose Tipo Non so Andare a vedere Anche retroscena Di tante cose Adesso Cioè potrei farvi Degli spoiler di video Che ho già girato Che metterò Perché appunto Come vi dicevo prima Per rispondere anche prima Ho un calendario Con video pensate Certo Perché se no È impossibile Esatto Però tipo Sono andata a far vedere Come si faceva il gelato Perché io La domanda che mi sono fatta è Una roba che mangio sempre È il gelato Ma come si fa? Cioè tutti lo mangiamo Tutti lo vediamo sempre Lo amiamo tutti Però Non avevo mai visto Effettivamente Come era fatto In una gelateria Comunque artigianale Non tipo algida Niente contro algida Ragazzi Se volete collaborare Sono qui Chiamateci Anche noi Esatto È strada per algida Però a livello artigianale Comunque sai In Italia C'è il gelato Tanta roba E quindi sono andata In questa gelateria Della mia città Oppure un altro video Che metterò Stay tuned Seguitemi su TikTok Martina Socrate È tipo Sono andata in una toilettatura E mi sono fatta vedere Come si lavano i gatti I cani Sto male No te lo giuro Io matta per gli animali Ho detto Pesca Non ho portato lei Perché lei è una matta No no Lei è proprio matta Una loca È loca loca Però ci sarà il cane Del proprietario Della toilettatura Che è bellissimo raga Non mi ricordo la razza Ma è tipo Un cane bianco Sembra un orso polare Vabbè sarà bellissimo Però tipo Tutte queste cose Mi intrigano Sfratutto farò vedere Quello che c'è dietro Tante cose Oltre a video curiosità Però sono sempre Che partono da me Che bello Domande che mi faccio Poi ovviamente Mi chiedo sempre Che cosa voglia di vedere Il mio pubblico Magari cosa sta trendando adesso Su cosa magari Possono essere curiose Le persone che mi seguono Che è anche in base al target Certo E le domande che mi avevi fatto tu Erano Era più il tuo rapporto Appunto con Le tue creazioni Con Tipo marketing Non so bene Ok Sì Allora Ma se vuoi ti spiego Un po' come funziona Il lavorare Allora La mia agenzia Di base Mi pare un po' Le spalle Nel senso che I clienti Che vogliono lavorare Con noi Funziona così Arrivano da me Mandano una mail Dicono ciao Siamo Pinko Pallino Vogliamo collaborare con Martina Il prodotto è questo E se a me il prodotto piace Io dico Ok Carino Facciamoci dire Qual è la loro idea Che tipo di contenuto vogliono E questa parte Se la gestisce tutta la mia agenzia Anche perché poi ci sono Contratti di mezzo Io non so leggerli Non ho voglia di leggerli Quindi Lasciamo fare tutto a loro Giustamente Esatto E in quel caso Quando si tratta di pubblicità Solitamente Il cliente ti dà Una sorta di canovaccio Con cose Appunto Che vorrebbe far risaltare Del proprio prodotto E tu Ci sono dei clienti Che ti lasciano carta bianca E ti dicono Fai il video che vuoi Ci fidiamo Questo è bellissimo Cioè Per noi creator è top Perché Mi dà la possibilità Di integrare al 100% Un contenuto Con il mio format Oppure C'è chi ti dice Vorremmo che tu facessi Che ne so Una challenge Tipo cose del genere Queste cose Io tendo a preferirle meno E quando me le propongono Chiedo Possiamo fare video A mia maniera Infatti Capito Dipende molto Dal creator Perché magari C'è il profilo In cui sta bene Anche la challenge Però nel mio Secondo me Non sta al massimo E quindi Appunto C'è questo scambio Di Non opinioni Però tipo Dico al mio agente Senti Chiedi lì Quella cosa lì E lui Cioè raramente Parlo direttamente Col cliente Anche se mi piacerebbe Molto in realtà Beh in realtà Magari non so Più avanti Potrebbe essere Figo Quindi funziona Questo proprio a me Ispira un botto Se avete domande Più precise Allora Quando Cosa hai risposto Cosa hai risposto Allo reale Esatto No 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 Ma invece La parte tipo Proprio di condividere Cioè nelle storie Di Instagram Quello che fai tu Durante il giorno Cioè la parte di condivisione totale Della tua vita È una cosa che viene da te Sì Cioè nel senso Magari Il mio agente mi dice Ho visto che Fai tanto questa cosa Mi piace Continua a farla Però alla fine Sta sempre a me Cioè non è mai un impormi E dirmi fai questo Quindi è una cosa che tu fai per te Cioè perché ti piace farlo Nel senso Sì perché mi piace Perché magari penso che Comunque sia utile Sia utile In una prospettiva Magari a lungo termine Per la mia immagine Ma 100% Sulle mie storie sono io Cioè non è che penso troppo A quello che ho detto Infatti Cioè faccio vedere O voglio far vedere il cane Faccio vedere il cane Faccio fit check Se sono quella mamma Faccio vedere la mamma Cioè le storie sono molto Un modo per Fidelizzare la community Guardaci a noi Stavo a dire Che sappiamo Da qua fino a giugno I tuoi programmi Tutto quello che hai fatto Esatto Cioè le utilizzo per quello Mi piace che siano molto easy Poi Io ho sempre un po' Al tarlo della precisione Nel senso che tipo Io faccio lo spacchettamento Vinted No è vero Cioè le tue sono belle Io li taglio Cioè mi faccio video E poi mi metto a tagliarmi Ma infatti mi chiedevo Ma tu dov'è che hai imparato A fare video così bene Cioè Io quando ero a liceo Dalla quarta liceo in poi Quando andavamo a fare la gita Io facevo il filmino Cioè nessuno me lo chiedeva Però io filmavo Poi lo montavo A fine vacanza Con la musichetta sotto Adesso se li riguardo Sono orrendi Sono lentissimi Cioè li facevo tipo A rallentatore Cinque minuti di voi Che camminate Una roba inguardabile Però tipo I miei amici erano felicissimi I prof erano stragasati C'era il mio prof di educazione fisica Che diventava matto Perché allora lui che ci portava in gita Diceva No Marti sei troppo brava C'è il filmino Sì filmino E quindi io facevo i filmini di base Ma così E è partito tutto da lì Cioè Ho detto Voglio fare un filmino Per la gita con i miei compagni E l'ho iniziata a montare E inizialmente montavo Con un programma scomodissimo Mamma mia se ci penso Che sbatti Adesso molto meglio Però Sì ma poi ora ci sono mille cose Anche sull'iPhone Tra facile Esatto Prima montavo sull'iPad Usava i movie Ma è tipo No i movie è È la morte Quando facevo i video di complesso Per le mie amiche Che era sbattissimo Esatto Quella canzoncina sotto ogni video Con le scritte Che non puoi decidere Come, dove, quando Metterle È vero È vero È vero È nato così E monto io Cioè Sì non faccio fare A parte ci sono degli ADV Più che altro Quelli magari c'è il brand Che vuole filmare Però di base faccio io Ma perché Sono più contenta Ma Cioè tu non hai mai Dei momenti in cui dici No Cioè non ce la faccio più Di post Cioè è proprio Per la questione Ah già Del social Di come ti vivi Anche la tua vita privata Quello che dicevo io prima Cioè che Se ci sono Secondo me Immagino Cioè ma non tu Tutti Sì La realtà è anche Abbastanza stabile Perché alla fine Se tu non fai Quella cosa fatta bene Non lo fai Nel modo giusto Nei tempi giusti Poi Ti si manda un po' tutto Sì Sì Ma tutto Tick tock Esatto Cioè È mille robe nuove Sempre più belle Perché la sticella Si alza sempre di più Secondo me E quindi Però dalla parte Del creator C'hai sempre Quell'ansietta Che se la vivi bene La vedi come Uno stimolo Ok Però alla fine Non lo vivi mai 100% Solo con uno stimolo Cioè un po' Ti viene Vabbè ma certo E Appunto C'è questa velocità continua E soprattutto Io so che Se voglio lo faccio Posso prendermi un break Però Per come sono fatta io Me lo organizzo prima Cioè Tendo ad avere contenuti Già pronti Per questo parlo per tic tock Per instagram è diverso Adesso vi spiego Però se dico Ok Sono burnout Voglio farmi una settimana Di pausa Ok Mi organizzo i contenuti Così comunque Vado avanti a postare Su instagram invece Diverso Cioè ho avuto un periodo Stra difficile Boh Tipo Due anni fa Dove ero stra In sbatti Vabbè Cose mie E raga Non avevo voglia di postare E lì non ho postato Per un po' Ed era brutto Perché oltre a sentirmi male Perché stavo male Per cazzi miei Avevo anche l'ansia Comunque di Oddio adesso Comunque non mi vedono Engagement va giù Perché poi alla fine Instagram Se tu non posti Come tic tock Come tutti i social Se verano che tu Non posti Dicono Ok Questo utente Non mi sta portando traffico Quindi via Via Cioè mettiamo qualcun altro Soprattutto in instagram È assurdo Con le storie Non le vedi più poi Con le storie non le vedi più È vero Io una cifra di gente Tipo ci pensavo l'altro giorno Mi spiace per lei Però dipende anche Cioè guarda Cammy Hawk Sì Io Cioè che la seguo Non la vedo più Ma da Sei mesi Sì no è terribile Mi spiace Ora magari Ma dipende anche Magari Adesso No sai Devi andare a cercarla E interagire con i post Esatto E questa è la cosa Cioè a me succede anche Che magari Dopo Non so magari Guarda lo suo profilo Non la vedevo da due settimane Guarda lo suo profilo Un giorno Guarda le tre post Due storie in evidenza E il giorno dopo Ce l'ho come prima Esatto E anche molto L'approccio che hai tu Con quel profilo Cioè quanto Come si chiama Infatti ora Ora ti racconto Questa cosa Vai Veramente Imbarazzante Imbarazzante Allora Stavo a ridere Sentiamo Allora Ci organizziamo Noi Ovviamente Fan O Scriviamo a Marti Cioè perché così Viene da noi Allora io ovviamente Dico Raga le scrivo io Le scrivo io Guarda il mio profilo Instagram Vado Sì Amo Che è successo I 700 messaggi Io che ti rispondo No io non li ho mai visti No infatti Infatti Aspetta Come ti chiami No amo Sono straimbarazzante Allora io Dico quelle che io scrivo a Fedez Ti amo Amo tu figlio Anch'io riempio così però Le loro chat Allora Il mio subito a loro Ho detto raga Io ovviamente Cioè no Troppo che non posso Scriver Dopo però li voglio vedere Sì poi te li faccio vedere Comunque Imbarazzantissimi Allora pure loro li fanno Vabbè te le scrivenine Io ti adoro Subito Ho detto non è che posso invitarla Che vergogna Cioè che sembra una bambina Di 8 anni Ma no ma a me fa piacere Anzi ti avrei chiesto scusa Per non aver risposto Probabilmente Ma c'è mia mamma Che tipo scrive a Fedez Ciao alle storie Cioè a caso Tipo io una volta Ero lì con il suo telefono in mano Non perché Sono curiosa di cosa fa Mia mamma su Instagram Però ero lì Probabilmente aveva qualche bug Dove risolverglielo Già che c'ero Guardato vedo Fedez Nel suo chat Dico Oh Raga una storia Letteralmente A caso lei Ciao Cioè è esilarante A me fa ridere Questo tipo di cose Tipo che vedo Che mia mamma Perché io mi immagino La scena di una mamma Che vede la storia di Fedez E dice Ora riscrivo Ciao Esatto Sperando mi risponda Anche magari Ciao Ciao Io commento Solo a Fedez Perché a volte Sento il bisogno Di condividere Il mio amore Cioè Lina Che gli scrive Tipo bravo Con le cose così Tipo le vere Hanno fai discorso Un po' tipo Con le cose tipo Politiche Io bravo Bravissimo A me piace anche Commentare le foto Oppure mi spiace un sacco Comunque un po' di supporto Sì sì Anch'io Quando tipo succedono Le querele Totale Supporto totale Cioè che lui Probabilmente No ma poi soprattutto te Cioè che Comunque ora sei Conosciuta E anche la cosa Pensa Non so Se qualcuno legge Le sue chat Immagino Che ne so Magari di Quattro anni fa Ti adoro Così E ora magari Collaborate No A me è successo Mi è successo Con Chiara Ah certo Nel senso che Io raga Le ho sempre risposto E poi tipo Magari Non so Succede che ci mandiamo Qualche messaggio Tipo vado indietro E guardo quando le scrivevo Ti cringio un po' È vero Però ti dico Dalla parte del creator In realtà fa piacere Esatto Bene Lo sai che Non è per niente cringe Non è cringe Cioè è cringe se Mi mandavi a quel paese E poi mi conosci Sono la tua grande fan E poi vedo che tipo Mi iscrivevi così Allora lì è brutto Però non è il tuo caso No no figura Vai Strona Ti fate le notifiche Mi sono sempre chiesta Ah ok È per forza E come fai a distinguere Quelli tipo Dei tuoi amici E quelle Allora Ti faccio vedere I miei amici sono Cioè perché Mi papà Da quando diventerò Strafamosa No amo Il principale Il principale Tra cui c'è Estredio Poi c'è il generale Che sono le persone A cui ho risposto Ho risposto una volta Ok E poi mi rimangono lì E poi c'è le richieste Ok Che sono quelle Che non ho ancora aperto Ok Amici Così Sai il Cosa tipo Che fai così E quindi niente Cioè io I miei amici li becco Perché sono nella principale Ok E molto spesso Spessissimo Non rispondo ai messaggi Perché Vedi qui ne ho tanti E spesso Cioè poi Se li apro Devo rispondere E io non so mai Che messaggio c'è Cioè spesso Mi è capitato Che li apro Per forza Deve rispondere Perché se no Esce visualizzato Amo Era un messaggio brutto Io messaggi brutti Di base non rispondo E sono proprio Cioè brutti gratuiti Tipo insulti a caso Ce ne sono molti? Tanti no No in realtà no Ma sai che mi capita Che siano di donne adulte Quelli brutti Giuro Brustezza Mamma E infatti dico Boh Non lo so Rispondi stronti No ma sapete Cosa faccio a volte Perché io Cerco di essere zen E dico no Non devo rispondere Poi però Cioè mi mangia dentro La cosa Allora cosa faccio Scrivo il messaggio Le lo mando E poi lo cancello Così nella mia mente Io l'ho mandato Però non l'ho mandato Capito? Ah poi lo cancelli quindi Sì quindi lei non lo vede Però io tipo A livello emotivo Sono ok Sei tranquilla La coscienza posta Quando devo rispondere A qualcuno Soprattutto se la cosa È costruttiva Mi fa sempre piacere Perché Boh Intanto faccio vedere Anche comunque Che non rispondo Sola complimenti Però se mi scrivi Che ne so Sul cazzo Oppure sei brutta Cioè non rispondo Nel senso Ok Anzi no Quando mi dicono Tipo sei brutta Mi piace rispondere Tipo vabbè Sono gusti Tipo così No ma abbiamo fatto La buona Sì Ci sta Cioè capito No giusto Così Che ridere Cioè non che ridere Poveri No No fa ridere Non che ridere Mi fa ridere Il contesto di avere A che fare con Della gente Completamente Cioè Beh ma c'è pure noi Magari certe volte Quando vanno virali TikTok Così c'è comunque Gente che scrive cose E io mi piglio malissimo Cioè nonostante Cioè figurati Noi Ora siamo 10.000 Grandi Io Cioè leggo Dico Ah quindi Mi stai dicendo Cioè che poi ovviamente È pippina 04 Trattino basso Quindi dice Vabbè chi se ne frega Però dice Ah lei mi ha Mi ha appena detto Che ho questo Lo so Questa parte qua Un po' più alta E da quel momento lì Solo quello guardi Lo so È orrendo Quindi diceva Fanculo Che cazzo E poi in generale Con il social sempre Cioè è normale Sì però soprattutto Cioè Già Ripeto Io che non ho Che ho 5 follower Se è Mi strapiglio male Pensa allora Che sono in 3 milioni Infatti anche questa è la cosa Cioè è proprio la questione Che mi chiedevo prima Anche di dover essere così esposti Cioè esatto Anche tipo Tu A livello tipo di ideologie tue Pensieri tuoi Ti esponi Sei una di quelli che si espone Tanto O tendi magari a Evitare di certe cose Dipende Ti dico A livello politico Mai Perché Una volta l'ho fatto Per il DDL Zan Che avevo detto Cioè ero indignata Comunque per quello Che era successo Ma tu non sai Quanti messaggi Mi sono arrivati Da Chad Adoro Te lo giuro Chad Di quelli che tipo Mettono le foto Col pesce gigante Che hanno appena pescato Quel tipo di persona lì Che mi ha fatto Su un discorso Che non me lo ricordo neanche Ma tipo Cioè Tremendo Che mi ha fatto incazzare Tantissimo Quindi Cioè Quando proprio Sento veramente Il bisogno Che non riesco a trattenere Lo faccio Però Se posso evitare E se non la ritengo Una causa Particolarmente Secondo me Quello poi cambia Cioè io In mente Ora non è che poi Ti faccio nomi Sì 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 Sai Boh Una fascia Di Tiktoker Così Che su Quel punto lì Sono comunque Molto forti Certo E ci sta Io il Polverone Che chiunque ha Più di Trecentomila Follower Per forza Su ogni causa Deve dare No Perché poi Soprattutto se non sai Meglio non parlare Anche perché Cioè il post In cui Riposti Eh Allora Finché lo riposti Ok Va bene Però C'è anche questa cosa Alla fine non va mai bene Non mi sto vittimizzando Né la mia categoria Però succede che Se non ne parlo Mi viene chiesto Perché non ne parli Se ne parlo Mi viene detto Che non sono abbastanza Competente per parlarne Quindi c'è Io quando parlo di una roba È perché mi sono informata davvero E dico ok Ne parlo Se mi vengono a dire qualcosa Almeno so rispondere Perché anche tanto su questo Nel senso Giusto Perché non voglio sembrare una scema Che smetta a parlare di cose È un po' così Cioè Ci si aspetta sempre Che le persone Che facciano questo lavoro Ma c'è Mi vedo anche un fede Che quando parla di politica Minchia Non può parlare di politica Ma quando Non lo fa Cioè Gli chiedono Quindi perché non hai detto niente Raga Mi rompevate fino a ieri Cioè Capito Infatti la questione È semplicemente da vedere Cioè Io la vedo come È una persona che seguo Quindi è una persona Che di base stimo Per certe cose Quindi se quella persona Che condivide determinati contenuti In più Condivide anche L'ideologia Che ha su determinate cose Come la condivido io Con i miei amici Cioè non so come dire No certo Totale Lo apprezzo perché Ci sa Perché magari Io so che è una persona che stimo Quindi magari mi può dare Uno spunto in più Certo Cioè banalmente Anche per le lezioni Secondo me il fatto che Comunque siete tutti Che avete comunque Grande Come dire Influenza Adatto appunto Su tutti i ragazzi anche Certo Il fatto di parlarne Comunque ti ha Non so Ti accendo un po' la lampadina E dire Ah però vedi che lei Pensa questa cosa qua Certo E così Cioè senza che tu mi faccia La ramazzina E dire Ma dovete fare questo No Semplicemente dicendo Io faccio Cioè a me Se uno vuole farlo Poi perché Io penso questa cosa qua Voto questa cosa qua O così Oppure Sì ma poi c'è chi è molto competente Cioè ci sono profili E infatti Anche proprio incentrati Io penso proprio Capito C'è una ragazza Che adesso Tipo tutti si stanno Guardando i suoi video Per capire chi votare Su tiktok Ma non mi ricordo Hai presente? Sì Si sta presenta Vabbè raga capito Cioè quella l'avete capito Sì sì Cioè ci sono proprio profili Che ora stanno facendo Vabbè Votate ora Possiamo farlo No raga votate Non chi sono ovviamente Cazzi vostri Però l'importante è votare Esatto Brava grazie Brava grazie E io non voterò Fra l'altro Come no? Perché? Perché io parto il 21 Per Sydney Me l'ha detto Quindi sono lì da tipo Due giorni Tra l'altro è l'ultima Volevo dirvelo No che cazzo dici? Eh mi stai stai No ma va Mi che è l'ultima Ok scusate Scusatevi scusate Potrebbe essere No mi avete portato Questo aspite di merda Per l'ultima Potrebbe essere l'ultima Anzi anzi E invece tu progetti Per il futuro cose Tu scusa Fai l'uni Certo Io faccio l'uni So anche cosa In lingue Brava Troppo brava Questo non lo sapevo Allora Faccio mediazione Linguistica a Milano Però mi mancano Cinque esami Io sono ingasinatissima E boh me li porterò Dietro un po' Già lo so E niente Faccio questo Minchia però posso dire Brava No mamma Quest'anno un cazzo Che continui Eh vabbè Ho dato Cioè non è che sei lì Cioè comunque Lavori già Fai tutt'altro Se vuoi Sì no Tutt'altro Tutt'altro Tu comunque conti di Sì ho dato Quest'anno due esami E appunto Mi mancano gli ultimi cinque Che avrei potuto dare Tipo tutti Nella sessione estiva E tipo L'estate scorso Ho fatto questa pazzia Di dare un botto di esami Però come dicevi prima Non riuscivo a seguire i social Tipo non postavo Avevo un'ansia assurda Vedi Capito Io non riesco a trovare I miei equilibri Cioè non sono che dici Minchia sei straimpari con tutto Fai università Fai lavoro No Cioè io adesso l'università L'ho dovuto un attimo Non è così scontato Vabbè ma quello nessuno Secondo me Cioè di Boh Ora mi viene in mente Studiare E seguire i social giornalmente Farsi talk Instagram Contenuti Cioè più che altro I contenuti Che voglio portare Mi portano sempre a Mi portano via Sempre tanto tempo Nel senso che Devo sempre andare Da qualche parte Poi il video Che giro Mi prende almeno Tre ore Quando sono lì Da questa persona Poi ora che torni a casa Ora che lo monti Cioè non sembra però Se sono tanti video così Alla fine io sono sempre In giro Capito E quindi faccio fatica A gestirmela Quindi raga Mi laurerò Non a breve Mi sa Non a breve Non fare aspettative Non chiedete Non pressure Giustamente Fatevi i cazzi vostri Nessuno chiede a Martina Anche a volte facendo il fenomeno Ci metteremo 15 anni Poi noi a laurearci Io non inizio neanche Quindi chissà quando inizio Ma ci sta Ma posso dire Non è che va fatta per forza Concordo No no concordo Cioè io non dico Che mi sono pentita Però prima raccontava lei Prima che arrivasse Prima che arrivasse Alice Raccontava a Nina Che io volevo fare medicina Volevo fare il medico Nella vita Ho fatto il test due giorni Tra l'altro c'è stato appunto Il test l'altro ieri Sì poco fa E non sono entrata Per tutte e due le volte E avevo sta fissa Dicevo no Io devo fare l'università Per forza Per forza Per forza E ho scelto lingue Perché già facevo il linguistico Però sinceramente adesso Cioè tornando indietro Non lo so Cioè è sempre cultura Ed è sempre un bagaglio culturale Perché Cioè se più ne hai Meglio è Però non lo so Io vedo i miei amici Che anche adesso Vogliono per forza Trovarsi un master Per forza Dico raga Cioè sì ok Ma se avete già un'idea Di master Che volete fare Non è che per forza Devi trovarlo Cioè questo è quello che dico E dipende anche Sì vabbè Ma cosa vuoi fare Se lo vedi anche come una cosa Devo farlo Perché mi serve O devo farlo Perché voglio farlo No ok Se ti serve Sai già Ok ma se è tanto per Perché poi dici così Mi assumono Non so se è così Cioè nel senso No infatti E quindi niente Cioè ci sta anche Se non ve la sentite raga Dopo il liceo Dopo il sito professionale Qualsiasi cosa Secondo me Cioè Ora no Sto dando un brutto consiglio Non studiate Non fate l'università Cis Martina Studiate però Mamma me l'ha detto Marti Mamma Marti ha detto Lo devo fare Non mi scassate Io ho odiata Adesso dalle mamme Che già le vecchie Le mamme ti insultano E' più ora Mentre scusa Io volevo dire Che hanno fatto Un complimento Molto bello Al tecnico E dicono Cioè avete una qualità audio Migliore di muschio selvaggio Morta Mi spiego Bravo Andrew Grande Grazie Andre Ottimo Mentre Allora Appunto Cioè parlavamo prima Un po' di altri TikToker Eccetera C'è Competitività Fra di voi E soprattutto Secondo me posso dirti Anche Madonna Questa è una sviolinata Marti Tu sei una delle poche Proprio che sei tu Cioè che fai Una minima Una minima cosa Diverse Poi io sono una Piazza è un po' di cazzi Tuo C'è un po' di cazzi Amo azotale Ma non farmi parlare Per il resto Cioè Tudiamo No Allora Potrei parlare Sarebbe tipo Una puntata di fuoco Però starò zitta Avete pensato Il trend di Ariana Grande Che dice Tipo così Io Io totale No Allora C'è gente che ha dei problemi Cioè secondo me Problemi seri Nel senso che No ma proprio C'è che Dio sto cercando Di fare giuste Per essere totalmente Neutrale Ci sono persone Che Si concentrano Troppo Su quello Sul gossip Sì No più che sul gossip Oddio Questo numero Non è andato bene Oddio Cioè Cosa sta facendo Quello Cosa sta facendo Quella Secondo me Se diventi ossessivo Nei confronti degli altri Cioè tu Quando ti guardi E cioè Poi diventa Un problema Per il loro fegato Nel senso Che Poi cioè Essendo già una roba Che sei tanto a contatto E ti Cioè Tanto a contatto Con il pubblico In genere Col mondo Se in più Non hai neanche attenzione Per te stesso Ti perdi completamente Ma poi soprattutto Cioè secondo me Questo modo di fare È controproducente Proprio per la creatività Cioè io vedo Che quando ho delle belle idee Ce le ho Perché sono serena Ok Che non sto Pensando al contenuto Di nessun altro E a come Quell'altro Lo farebbe meglio di me Cioè proprio Ma non esiste Ma lo sai che io Cioè tipo Alcune persone Ho smesso di seguirle Per dire Perché mi distraevano troppo Perché magari Facevano delle robe A cui mi sentivo Un po' troppo vicina E quello andava ad intaccare La mia creatività Per dire Ma non era Cattiviera E che io non voglio essere influenzata Cioè io ho questa cosa mia Che ho questa visione E cerco di non farmi intaccare Figurati se mi faccio intaccare Dalle Le sciocchezze Che dico Dio Quella Ha fatto quella cosa Simile alla mia Amo non esiste Per me Cioè per me Io i miei video Li faccio io Come dico io Nessuno li farà mai Come li penso io Cioè questo è quello che penso A tanti manca questa cosa Cioè dovrebbero secondo me Fai i nuovi Marti Facciami i nuovi No sto scherzando Morta Morta Non parliamo Ce li fa dopo Esatto Ciao Lu ci spessi Ciao lu ci spessi No che poi Secondo me questa è proprio un po' La chiave Secondo me Del riuscire a avere Mantenere proprio successo Cioè Che comunque Tutto viene da te Se tu alla fine Ti Ti Devi avere fiducia Con l'altro in modo Esatto Cioè tu devi dire Minchia sono arrivato qua Ma ci sarà un motivo Cioè non è che ti regalano tutto Ok puoi avere culo Ma se si rida un po' È perché sei bravo Fine Cioè pensa a te Questo è quello che dico Bravo brava Cioè nel senso Boh Cioè Io sono molto focalizzata Sto di me Che non vuol dire che tipo Non guardo nient'altro Perché comunque le influenze Però non guardo i miei colleghi Cioè nel senso Boh Non mi piace ossessionarmi Perché poi Soffoco La mia creatività Perché io sono creativa Solo quando sono serena Infatti quando ho brutti periodi Per me è stra difficile raga Perché tipo Sento proprio che mi si chiude un buco Certo Che è il mio buco creativo Adesso vai ridere detta così No Però è proprio tipo Un flusso di cose che mi escono E quando sono in un bad mood Ho il tappo Cioè Non Beh che fortuna Cioè che tu hai È proprio Secondo me La chiave Per poter andare avanti In questo mondo qua Secondo me Mi preservo Facendo Il mondo di TikTok E non in questo mondo Esatto Mi preservo In questo mondo Non guardando troppo Quello che fanno gli altri Eh infatti Ci sta Può aiutare Secondo me tantissimo Almeno per come sono fatta Io mi dico Anche per mantenere il tuo personaggio Comunque essere un po' più Autentica Tu sempre Esatto Sì E è il motivo per cui sei l'unica influencer Che piace a Nina Ora possiamo dire L'abbiamo selato in segreto Ci piace? No Allora ti seguo Perché più che altro Ma io vivo insultata da loro Che parlano di gossip Di web Io non so niente Io sono fuori da tutto raga Io conosco due TikToker Giuro Lollo Vabbè Lollo lo amo Ok Amo Ho visto Ciao Lollo Ciao Lollo Ciao Lollo Ti stramiamo Però tipo quando Becco appunto Di miei amici Che mi dicono Oddio ma Hai presente quello Ma cos'è successo Che poi Noi di questo ambiente Sappiamo Dietro le quinte Io mi perdo tutto Questo succo Rosa Peccato Marti Io non conosco queste persone Di conseguenza il gossip Non mi interessa Cioè a parte quelle Tipo quella che ha appena partorito Certo vabbè Ok ma non la conosco anche io Perché Webbo Ti ha fatto una capatanta Però ecco Non sono nel giro E quando parlo con loro Dicono Madonna ma non sai mai un cazzo Non conosci nessuno Io dico Sì lo so Meglio Sendo un po' boom Ero quasi 24 anni Poi tu boomer Di da che tempo Siamo Non sembra No Brava A calcolo veloce hai fatto Ha detto 24 Ma solo perché c'è l'età di mio fratello Era l'unica cosa Se no figurati E tu sei 2003 Sì Come io e mio fratello Davvero Sì Il Oddio Tu lo chiami Ratto Brava Carino Salutiamo Ratto Ciao amo Ciao Ti sta seguendo Il Ratto Spero di sì In realtà Forse Boh non so cosa sta facendo Poverino Vabbè Però se mi stai seguendo amo Lui è tipo Allora Io a volte Com'è lui con Questa tua Vita Cioè uno che Respinge Non ha molta voglia Farsi vedere Non si vuole far vedere Infatti lo vedo Che tu gli fai sempre i video Ma il poverino Lo rompe sempre Poi è anche strabravo Perché si mette spesso Cioè Nei video io gli dico Teo ti prego mi servi tu per questo video E mi dice vabbè ok Ti voglio proprio bene Cioè lui dice proprio così Sono proprio un bravo fratello Se lo dici da solo Ma lui per me è straimportante Perché mi aiuta tantissimo Lato Creazione del video Cioè io ogni volta Che faccio un video Io lo faccio vedere a lui E dico Oh dimmi se è bello o brutto Perché lui è proprio cinico E ti dice la verità Cioè se fa schifo Mi dice no Marti Fa schifo Cambia sta roba Cioè ma raga Io la cambio Perché mi fido Cioè che a me Il mio fratello Eh ci sta Ma secondo me In questo Cioè in questo mondo qua Più ti affidi ad uno giovane Meglio è Lui essendo cinque anni più piccolo Non è chissà quanto Però comunque Cioè Poi lui sta in una parte di tiktok Schifosa Cioè stra diversa dalla mia Sta proprio tipo Il tiktok dei maschi Non so come dire No no È proprio utente medio Maschi medio Credo mio fratello Cioè no Così è un insulto Diciamo È sveglio Mio fratello è un bravo ragazzo Però è in quella parte di tiktok Mega 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 trash Tipo un po' americano Con quelle robe lì E quindi Per me è utile Anche il suo Punto di vista No Quindi io lo amo Per quello Cioè Lui è proprio Il mio È una tua famiglia Stradin Cioè ti aiuta un sacco Comunque nel Tutto il tuo lavoro Le cose Le coinvolgo tanto Esatto Strai coinvolti Sì Però sono contenta C'è anche Comunque lato Gestione proprio del lavoro C'è la mia mamma Che mi segue Gli appuntamenti Poi c'è mio papà Che mi segue Quella parte di contabilità Che sono cose Che già fa l'agenzia Però io anche In più ci sta Che hai Comunque gente fidata Molto fidati Esatto E poi li coinvolgo nei video Papà non c'è mai? Mai Mai Ma infatti Sono un po' pesa Che non lo conosco ancora Mio papà Papà Mario Vorrei conoscerlo Perché mamma Robi Io praticamente Cioè volevo intervistare Lei Oggi Eh amo me lo dicevi Te la vorreste Che poi lei No ragazzi Alla famiglia Mio mamma si imbarazza Anche Ratto Mi spiace Ho già chiamato Ratto No no ma Matteo Matteo Chiamavano Matteo Era proprio un duettino Cioè era proprio Era così Era fatto a posto Il suo destino E sì li coinvolgo tanto Si fanno coinvolgere Cioè c'è chi proprio dice No non voglio farmi vedere Nessuno Però no Allora sono super chill Ottimo Beh bello Dai sono felice Molto bello Tu invece hai qualche Speranza per il futuro In particolare Qualche Sei Non so qualche Piena di viaggi Esatto Non spoileriamo Perché Oddio No li ho spoilerati Ieri nella diretta Quindi spoileriamo anche oggi Vabbè Allora non tutti Non tutti Però uno Si sa che io amo Parigi E il mese pro No questo mese Anche il mese prossimo Vado a Parigi Quindi sono stra casata Ragazzi E come goal miei Ma in realtà C'è quello di lavorare tanto Adesso Più che Cioè proprio lavorare Su di me E su contenuti proprio miei A parte ovviamente Il lavoro Publicità e cose così Che ovvie ci devono essere Però Sono proprio stra focalizzata Su quello che voglio fare Mi programmi video Cioè ho proprio Una lista Che adesso vi faccio vedere Dai amo Facci vedere Voi non la potete vedere Amo è infinita Ok video da fare Guarda quanto cazzo È lunga Non finisce più Cioè ogni giorno Che brava però Ce ne metto Allo scherzo Eh no però capito Sono stra focalizzata Su questo Sono stra contenta E poi come Boh goal preciso Non ce l'ho Cioè cerco di Fare del mio meglio adesso Poi vediamo Ma quando tipo mi chiedono Cioè qual è il tuo obiettivo Alla fine devi saperlo Per il tuo personal brand E io tipo Boh Non lo so raga Io lo so Se vuoi per questo Fine settimana Giusto Vabbè Giusto così Scherzi No idea Vedo come va Sempre Così Va come va Bene Qua ci sono delle Demandine Ah no Che Harry si è interessato Prima Anche no A parlarne Della questione Del manifesting E delle energie positive Nina Tu ora poi Puoi uscire Puoi uscire No perché vi spiego Perché questa cosa È stata bassurana Perché anche mio padre Ha iniziato a fare manifesting Davvero E una sera Se no Vi spiego Sono tornata a casa C'era mio padre Sdraiato in camera mia Con una voce Che gli diceva Alza il braccio Sospira Amore ma non è Non è manifesting Quella è meditazione Ma tu fai anche meditazione Certo Ma perché sono così Chill nella vita Perché sto Di dieci minuti Non ogni giorno Però quasi così Io amo Non riesco a meditare Ecco Cioè stare ferma A meditare Non riesco Io sto sul letto Per me è surreale Comunque Amo no Allora Posso dire Io forse Faccio meditazione Ma è attiva Nel senso Forse è una roba Un po' brutta Però Tipo L'altra notte Ho fatto un brutto sogno Ok Mi sono svegliata Mi stavo impanicando Un botto E mi sono fatto Un viaggio Della Madonna Che secondo me Era meditazione Era meditazione Ma come può essere Nel senso che mi sono detta Ok Adesso tu ti stai letteralmente Tu non stai soffrendo Ti stai staccando dal tuo corpo Io mi vedevo letteralmente Fluttuare sopra la terra Io che paura Io ho ricominciato a sognare No ma mi mettono l'ansia Queste cose Scusa Ok Io ora faccio proprio La tipica TikToker Tu sei Bilancio Amo lo sapete Ma perché ti spiego Perché ti spiego Perché lo stavi No allora Uno lo so Amo io Anche tu Che giorno Io 13 Amo fra poco Il nostro compleanno Sì Ma come mio papà Oppure mio papà 13 ottobre Adoro Adoro Bellissimo Comunque io Con lei Sono bullizzata Mentre secondo me Cioè una cosa Che pure se non è vera Perché è ovvio Che io non è che penso Che se Mercurio oggi fa Una volta che mi fa Amo Amo oggi c'è la luna piena Devi fare qualcosa La luna piena Il tuo Una capriota Il tuo Il tuo ciclo mestiale È influenzato Funziona con la luna Quindi Amo ma Pensa alle maree Cioè il mare va su e giù Con la luna Noi siamo fatti di acqua O di che ansia Amo Io ci credo Cioè non è che se c'è la luna Pino mi metto a ululare Però nel senso Cioè ha degli effetti Secondo me Poi dipende Se non ci credi Sai cosa Se non ci credi Ti senti male Ma non sai Dargli una spiegazione Se invece dici È la luna Puoi scazzare con tutti Ma almeno è una scusa Ci dici Amo Luna calante oggi Tipo Mi devi mollare Ma come faccio sapere Quei pezzi di merda Che ti rispondono male Sempre Amo sono scorpione Però eh Non mi devi proprio Non me ne hai fatto un cazzo Sei uno stronzo Ma scusate ascendenti Vergine io Però Ma tu che segno sei Io sono cancro Come mio fratello No morta Amo forse Forelle Esatto No per mio fratello Cancro ascendente leone E io pure ascendente leone Tu sei ascendente leone Sì Forse si vede Sai E io Tu sei ascendente Sagittario Sagittario Come mio papà Ragazzi Famiglia Famiglia Capito Comunque cerchi Fasi lunari Calendario Luna 2022 Quindi sapere Mio brutto Per tutto l'anno Qua Tutto il tuo anno Guarda qua Aspetta Dov'è Oggi Oggi Fasi lunare Gibbosa Crescente Cavolo Un casino Cosa Cosa seminare Ortaggi da frutto Seme E fiore Ma raga Ma è quasi piena Io non vedo l'ora Amo E allora mi cresco I denti del giudice Perché prima stavo dicendo Che ogni settembre La luna piena di settembre Ok Non voglio essere presa per il culo Ma raga Questa cosa è vera E tipo Mi è successo due anni di seguito Che con la luna piena di settembre Mi spingessero i denti del giudizio Al che io l'anno scorso Vado dal mio dentista piena E gli dico Senti Cioè È possibile Che La luna influenzi I miei denti del giudizio Che spingono Però fa un po' ridere Come domanda E io mi aspettavo Che lui mi dicesse Tutto bene E in realtà Mi ha detto No guarda In realtà Cioè Alla fine La luna Cioè Influenza un sacco I campi magnetici Mi ha dato una risposta del genere E noi Siamo soggetti anche a questo Quindi raga Adesso Ricomincerà a spuntare il dentino Mi fa Mani Il dentino Già lo sento Che qua c'è Noi E con questa Spiegazione No se tu vuoi qualcosa A dire sul tuo manifesting Ti lascia Ah già è vero Io Io sinceramente Ci stracredo Lo faccio Un po' Cioè Non è che tipo Mi metto lì Ogni sera Dico Oddio voglio Essere miglioraria E quindi Però comunque Ho un po' Questi miei momenti Di spiritualità In cui mi metto La mia musica Mi accendo Le mie calme Amo Hai il palo santo Eh Hai palo santo Lo voglio comprare In sti giorni Quello che fai Così Ma poi tutto In Australia Sarai anche Peggio Vegana Amo In Australia Amo C'è un posto a Milano Ti dico dove comprarlo Ok non vedo l'ora Non vedo l'ora Ok Andrò Massima è tipo Salvia Bianca Un profumo buonissimo Quando fai tu in camera Che fai così Amo Amo Guarda che Non Kylie Come capito si chiama l'altra Kendall Jenner È la queen Quindi tu dici che lei è così figa Per il manifesting Eh certo Mica perché È la modella più pagata al mondo Mica per niente Mica per Cioè perché parla Faccio un mese di manifesting E vediamo se mi crescono le gambe così No però secondo me Non è che ti devi mettere lì Cioè tipo Ho letto di gente Che tipo Ad ogni Ora e mezza Fa tipo tre volte L'affirmation Cioè quella Io non ce la faccio No però tipo Se Che è il step dopo Sì Cioè Allora Io avevo letto sta cosa No avevo visto un TikTok Non avevo letto Non faccio la finta internazionale No perché Io ogni volta Pensavo di aver letto Ma era un TikTok In realtà E c'era questa Ho letto questo articolo Sull'internazionale E poi era un TikTok E poi un video di Marti Socrate Che spiega perché i biscotti Si Capito Si ammolliscono E diceva Manifestare è semplicissimo Cioè pensate ad un gatto blu Ce l'avete in mente Certo Ok tu devi pensare A quello che vuoi raggiungere così Cioè è facile Te lo devi immaginare E devi Immaginarti come ti sentirai In quella situazione Cioè tipo Quindi quando sono innamorata Di un ragazzo Che pensare tutto il giorno Alla fine a un certo punto Mi amera pure lui Cioè no devi pensare Oddio che bello Così tipo Sento proprio Mi immagino di stare con lui Io ho questo feeling Tipo Dio mi ha appena scritto Amo così Non funziona Non funziona Non funziona? Cioè forse sbaglio No No però 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 Non so se ti ricordi Quella No quello è assurdo Non l'ha fatto da paura No quella ha fatto una paura assurda Anche ho una storia Allora una sera Noi con altre quattro Che ci siamo proprio sorelle Così Per ridere facciamo Poi Bellissimo anche con Questa luce led Viola Era strano Per ridere facciamo Iroija Morta Giuro Sembravano tipo le Wings Però strane Cioè un po' tipo pazzo Vabbè Esatto E Cioè Così per ridere Io faccio Ah c'è Questo qua Che voglio Che mi è E Tipo Ci sono quelle frasi Tipo Fisse Che dici Tipo I don't chase I attract Sì Sì Per ridere Facciamo Aspettiamo Amo io non sto scherzando Cinque minuti dopo Mi scrive Il tipo a me E alla mia amica Scrive un tipo Che non sentiva Da sette Io non sto scherzando Io non sto scherzando Alla mia amica È successa la stessa identica cosa Lei praticamente Aspettava un messaggio Da sto tipo E ha iniziato A dire Ok Facciamo finta Che mi ha scritto E tipo Raccontava alla sua amica E diceva Allora no Mi ha scritto Che domani usciamo È stato Cioè Troppo carino Alla fine Non mi scriveva Da un botto Sta di fatto Che parlano Raga Così come se fosse Già successo Per quindici minuti Non sto scherzando Jenny Se stai vedendo Questo podcast Lo sai Mi l'hai raccontato tu È arrivato Il messaggio di questo Che le chiedeva Di uscire No joke Cioè Io mi fido di questa ragazza Non mi racconta palle È successo davvero Dopo che aveva fatto Questo discorso Cioè Non è caso No ci facciamo Perché già lì C'è un parla Come se fosse Cioè Finanzata Dice No ma Cioè Io sono finanzata Ma Vabbè Io smetterei Questo discorso Magari funziona Così devi dire Cioè capito Ed è un po' da pazza Quando parli da sola Fallo Parli da sola Sì Più o meno Ok E che fa queste cose Mi fanno sentire un po' strana Pagliare più male Quindi non le faccio No Vabbè Guarda Con il tempo Pure tu Riuscirai a diventare Una manifestatrice Esatto Una manifestation girl Manifesting queen Esattamente Esattamente Va bene Allora Stiamo parlando da un'ora Ci sa Guarda come passa il tempo Quando ci si diverte Ci si diverte Qualcuno anche dal pubblico Ciao Qualche cosa Tu Harry Nada No Abbiamo soddisfatto tutti Abbiamo Ok 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 Ma sicuramente Io sicuro Quando torno Da quel posto di merda In cui ci sono solo Zen girl Che è Ciao Cioè torno proprio Quei cristalli Sì sicuro Arrivo Torno Legge le cari Ma scusa Scusa Dove sono? Non so Il tuo valigio Non ho più bisogno di nulla Giuro Nulla Ho finito Sì sì Però Mi basta Mi basta Le mutande Vanno in giro nuda Mi arrestano Vabbè dai Finiamo così 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 Fine Marti Merci beaucoup Grazie a voi raga È stato super bello Grazie per averci seguite Ciao Aspetta Speriamo di vederci presto Ma guarda quella di Muschio Amo meglio di quella di Muschio Non sto scherzando Copioni Copioni Io Luis Troppo Ecco Lui Lo amo Lui lo amo Lui è un Eh? Troppo Sì 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 Lo amo Eh? Invitate anche lui raga Ah ma sicuro ci risponde Però va bene Va bene Poi ci tira in mezzo Tra puntata Non c'è un cazzo Esatto E poi più che altro così L'ho persa Innamorata che non sento Quello che dice Vabbè Ciao Luis Ovviamente tu ci stai guardando Quindi ti mandiamo un bacione E ci vediamo Dai All'episodio che Tra poco Prossimo E giorni Ciao raga Ciao Ciao And Ciao 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 Ciao